buonasera a tutti benvenuti ai nostri primi incontri di eh sull'architettura oggi abbiamo il piacere di avere con noi Luca Lanini è docente all'Università di Pisa professore di progettazione architettonica ed urbana e vicepresidente del corso di laurea in ingegneria edile architettura dico bene? Sì solo che nel frattempo mi hanno fatto presidente non sono più vicepresidente mi hanno accolato questo ruolo perfetto allora io aggiungo selezionato per il premio giovani nel duemilasei dell'Accademia Nazionale di San Luca fondatore con Manuela Raitano dello studio BEAR va bene se lo leggo così? Sì sì va bene all'italiana no insomma così anche se no Building Environment Architecture i cui lavori sono stati premiati in concorsi nazionali ed internazionali allora oggi intanto benvenuto Luca grazie oggi siamo qui per parlare di un architetto poco conosciuto la gran parte delle persone e Ivan vediamo se pronuncio bene Ivan Ilice Leonidov una mia amica russa mi ha aiutato dico la verità insomma sono sono sincero non è tutto frutto mio e con oggi parleremo di un libro che Luca Lanini ha scritto e pubblicato da lettera ventidue eh dal titolo lo spazio cosmico di Leonidov allora innanzitutto e ti vuoi presentare Luca? Sì ma gran parte delle cose notevoli le hai dette tu appunto sono un architetto sono docente di progettazione architettonica urbana all'università di Pisa che mi ha accolto come dicevamo prima dopo lunghe peregrinazioni lungo e largo per la penisola ehm ho avuto uno studio di architettura per tanti anni prima a Napoli con Francesco Costanzo e poi a Roma con eh Manuela Reitano ehm svolgo diciamo nelle pieghe dell'attività accademica anche un po' di attività professionale però perché sono a tempo pieno la svolgo avendo come unico cliente l'università di Pisa per l'appunto. Senti però in questo tuo e peregrinare no prima prima del collegamento mi dicevi ho insegnato in tante parti d'Italia allora l'incontro con il mondo sovietico quando è avvenuto? Guarda è avvenuto in realtà ehm intorno all'inizio degli anni novanta quando appunto esisteva ancora l'Unione Sovietica perché io ero ancora studente e era circa 1989 la mia università che era la Federico II ehm aveva un programma di studi di scambio di studenti con il Marchi che mh la più importante scuola di architettura di Mosca che un tempo si chiamava Vutemast appunto dove si laureò e dove insegnò Ivan Leonidov e vinsi un bando per lo scambio di studenti e nell'ottobre del 1989 andare per la prima volta a Mosca che appunto era ancora la capitale dell'impero sovietico e da lì eh sono iniziati questi miei rapporti con la Russia e con il mondo delle avanguardie che quella cultura ha espresso poi per varie vicende personali ci sono tornato più volte e tra l'altro la prima volta che ci sono andato nel 1989 di questi architetti questi architetti neanche lì non li conosceva più nessuno eh cioè le poche opere che erano state realizzate durante gli anni venti e trenta erano state o demolite o erano in in pietoso stato di abbandono o comunque dimenticate era il periodo in cui era il periodo in cui le famiglie degli architetti vendevano tutto il materiale di archivio e questo è un grandissimo problema anche nel caso di specie di Leonidov che il materiale è sparpagliato nel mondo in archivi privati spesso senti chi è spieghiamo a chi non lo conosce chi è Ivan Lenidov? Allora Ivan Lenidov è stato probabilmente uno dei più importanti architetti del novecento cioè una bella frase dire ancora come tutti sanno oppure perlomeno molti delle persone che ci ascoltano se hanno un po' di dimestichezza con l'architettura contemporanea conoscono un grande architetto e teorico di architettura olandese eh fondatore dello studio OMA che ha fatto costruzioni in tutto il mondo e anche in Italia che scrive se l'intera architettura del ventesimo secolo per un caso fortuito fosse distrutta potrebbe essere riportata alla luce attraverso il codice genetico contenuta nelle architetture di Leonidov quindi capiremo capiamo no il portato di questo endorsement di Golas perché il codice genetico è una cosa abbastanza strana no perché sia l'eredità ancestrale che ciascuno di noi possiede però e anche allo stesso tempo eh tiene insieme tutte le possibilità di sviluppo del nostro essere nel futuro e questa è come dire un una frase molto pesante ma d'altra parte Leonidov fu per un breve periodo della sua vita molto famoso anche tra gli anni venti e trenta racconta un collaboratore ungherese di Le Corbusier Negli anni a cavallo tra venti e trenta era considerato in Europa un dio dell'architettura praticamente cioè era colui che stabiliva bene diceva che Le Corbusier è l'unico che sentiva come possibile minaccia alla sua leadership sul movimento moderno non erano né Gropius né Miss van der Rohe tanto meno Wright che considerava un architetto dell'ottocento si preoccupava solo di questo ragazzino moscovita che era stato suo competitor in un concorso per il centro Soyuz nel cenne a Mosca era rimasto colpitissimo da questo progetto per cui era sempre alla ricerca del andava spesso a Mosca Le Corbusier perché stava costruendo appunto il centro Soyuz eh brigava per avere l'incarico per eh il palazzo dei Soviet vanamente c'è da dire eh si preoccupava molto di osservare i progetti di questo ragazzino che all'epoca del concorso per il centro Soyuz aveva venticinque anni Le Corbusier era quindici anni più grande ne aveva ne aveva quaranta all'epoca. In che momento storico del dell'Unione Sovietica ci troviamo? Allora ci troviamo in un momento molto particolare durato pochissimo che è il cosiddetto periodo della NEP. NEP sta per nuova politica economica. Chi ha un po' di dimestichezza con la storia dell'Unione Sovietica sa che eh la fase prebellica prima della seconda guerra mondiale è divisa sostanzialmente in tre parti. Una che è quella del cosiddetto comunismo di guerra dal millenovecentodiciassette a gli anni intorno al ventuno ventidue quindi quando finisce la guerra civica. Poi c'è appunto il periodo eh invece dei piani quinquennali che è quello che va dal millenovecentotrenta in poi fino al fino al quaranta quando l'Unione Sovietica entra in guerra. Poi c'è un brevissimo periodo tra questi due eh momenti storici che è la cosiddetta nuova politica economica. Sono gli ultimi anni in cui eh Vladimir Ilyich Lenin è eh dirige l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica è un paese dopo la guerra civile è un paese poverissimo con grandissimi problemi di approvvigionamento delle materie prime decide che possono essere reintrodotti in alcuni ambiti dei regimi di proprietà privata e diciamo di quasi proprio limitata azione capitalista. Questo porta in realtà un a un veloce eh arricchimento di alcuni settori della società sovietica ma soprattutto porta alla scelta da parte del regime sovietico dell'avanguardia come stile ufficiale di questo periodo storico e quindi il periodo in cui si affermano anche in architettura alcuni correnti d'avanguardia tra tutte il costruttivismo che molti conosceranno è l'epoca eh dei diciamo del massimo della massima espansione ad esempio di alcune avanguardie come il cubo futurismo eh il suprematismo artisti eh come Malevich eh come Lisinski che diciamo stabiliscono quello che sarà il pattern delle avanguardie sostanzialmente di tutto il novecento. Non è un caso è proprio in quegli anni che parallelamente al Bauhaus in Germania con solo otto mesi di ritardo si forma questa fantastica scuola di arte e di architettura che prende il nome di Utemas. Ivan Leonidov è il prodotto di quella scuola in cui insegnano i grandi architetti rivoluzionari eh però della generazione precedente quelli che erano siano formati alle scuole zariste come i fratelli Jesnin eh come Konstantin Mielnikov e io li chiamo eh architetti russi e non ancora sovietici invece Ivan Leonidov è il primo e tra i primissimi prodotti pienamente sovietici siamo pienamente consci di questa epoca nuova del della storia. Possiamo dire che l'architettura no? In proprio in questo momento diventa fortemente lo è sempre stato insomma ma con lui è proprio un'espressione sia del mondo politico russo e proprio dei cambiamenti e dei visioni della società. Certo, certo. Questo è verissimo. È verissimo eh per due motivi. Allora innanzitutto perché ehm nella visione leninista Lenin muro nel milenovecento ventiquattro l'arte e la visione marxista sostanzialmente l'arte non è altro che la cinghia di trasmissione tra il partito e la società sostanzialmente quindi l'architettura ha una parte importantissima in questo meccanismo ma c'è dell'altro c'è la necessità e questo avvicina moltissimo il lavoro degli architetti russi di quegli anni a quello fatto dagli architetti della Francia rivoluzionaria un secolo e mezzo prima c'è la necessità per una società che si vuole fondare su basi totalmente nuove. L'URSS è un esperimento dal punto di vista sociale eh mai visto prima nella storia umana che si vuole dare dei nuovi edifici che la rappresentano no? Delle nuove architetture che la rappresentano e quindi c'è tutto un linguaggio un discorso su che forme devono avere questi edifici qual è il linguaggio che rappresenta il presente dell'Unione Sovietica e se vediamo questo discorso poi eh con forme completamente diverse ma secondo lo stesso principio che io chiamo totale e totalitario no? Quindi l'opera d'arte deve essere totale che però vuole come dire governare le idee e nel caso del del costruttivismo anche il corpo degli uomini si cambiano le forme principio e lo stesso arriva fino all'architettura del periodo staliniana che è sostanzialmente un eclettismo neoclassico. Senti tu scrivi che leggo un pezzo del tuo libro che mi è piaciuto particolarmente cioè è un'operazione esplicitamente contro culturale gli operai che vivono nelle case di Leonidov e si muovono liberamente nelle parti comuni ma conservano ampi spazi individuali accettano la dissoluzione della famiglia anch'essa considerata un retaggio della società borghese in cambio della possibilità di istituire un sistema più libero di relazioni dagli individui resi reso ineludibile dalla realizzazione dell'emancipazione femminile vero eh allora quando si parla di questo momento storico diciamo la NEP il periodo della NEP dura sei sette anni non di più quindi un periodo molto limitato anche all'interno della della storia dell'Unione Sovietica in realtà è durata settant'anni no? Ebbene è un periodo in cui eh un'idea radicale della società ma anche dei rapporti tra gli individui si afferma no? Eh appunto vengono immesse vengono messe in discussione venga messa in discussione la famiglia la famiglia che appunto la solidificazione di rapporti patriarcali no? E gran parte della società eh russa pre-rivoluzionaria ma chiaramente la rivoluzione può fino a un certo punto diciamo sovvertire quasi un millennio di tradizione era una società sostanzialmente agricola estremamente povera estremamente arretrata quando eh all'inizio dell'Unione Sovietica il tasso dell'alfabetismo è dell'ottantasei per cento allora c'è una società che attraverso l'architettura si pone il problema di trasformare gli individui trasformare gli individui nella coscienza e quindi sostanzialmente nelle pratiche culturali e come vedremo anche nel corpo c'è eh tutto questo poi si collega a un altro filone della cultura dei giovani russi di quegli anni che è un filone abbastanza interessante e che sarà il filone che da un punto di vista scientifico tecnologico produce poi quella straordinaria esperienza che è la cosmonautica degli anni sessanta c'è un filone culturale sempre delle avanguardie russe che è stato dimenticato per tanti anni che si chiama cosmismo che da una parte appunto affonda le proprie radici nella nella tecnica nel culto della tecnica tardottocentesca però la tecnica è anche vista dalla società socialista come lo strumento che può emancipare eh l'uomo da dalla fatica del lavoro ma soprattutto dalla dalla fame in cui eh dalle tremende carestie che flagellano le campagne russe da centinaia di anni quindi da una parte la della tecnica dall'altra invece questa tecnica diventa eh spesso fantascienza c'è un sottofondo fantascientifico eh nelle architetture costruttiviste di di Leonidoff oppure di un altro grande architetto che si chiama eh chiede che il Crutico si laurea al Vutemas lo stesso anno di Leonidoff mi pare la la sessione dopo e come tesi di laurea porta una città che ruota intorno alla terra in orbita geostazionaria a cui si arriva attraverso delle navicelle monoposto quindi c'è come dire tutto un sottofondo fantastico futurologico in in questa esperienza che è ancora interessantissimo secondo me Senti prima hai parlato di Le Corbusier no? Sì. Sono diciamo due contemporanei insomma uno più giovane l'altro però le loro differenze profonde no? Sono due vengono da due paesi diversi e da due culture diverse come li relazioneresti uno con l'altro? Cosa hanno in comune tra loro? Allora eh chiaramente Leonidoff guarda costantemente all'opera di Le Corbusier. L'opera di Le Corbusier è una sorta di Bibbia che è sul sui tavoli da disegno di ogni studente del Vutemas. Le Corbusier è spesso. Anche della nostra generazione diciamo. Siamo tutti cresciuti. Le Corbusier tra l'altro è spessissimo a Mosca. non ho mai visto foto insieme a Leonidoff ma sicuramente con i docenti con cui Leonidoff studia appunto Alexander Viesnin è il docente con cui si laurea Leonidoff ma c'è sicuramente questo culto assoluto assoluto per la forma pura e questo è una forma diciamo purismo che le Corbusier abbandona dopo la guerra e invece Leonidoff pur corrompendolo con un gusto pittorico che viene dal folklore russo mantiene durante tutta la sua carriera tra l'altro breve perché ricordiamolo Leonidoff non costruisce niente cioè uno dei più importanti architetti del novecento realizza una scalinata in un sanatorio in Crimea nel parco di questo sanatorio in Crimea gli interni di alcune case dei pionieri qualche allestimento abbasta sostanzialmente ecco il fatto che noi continuiamo a interrogarci a lavorare con una certa periodicità no tra l'altro chi ha studiato Leonidoff nel dagli anni settanta in poi sono stati tutti italiani Lefeo Vieri Quilici eh Alessandro De Magistris quindi con è come se secondo te allora a parte che c'è una straordinaria vicinanza no uno scambio che c'è sempre stato tra la cultura architettonica russa e l'architettura e la cultura architettonica italiana dal settecento sono stati i nostri grandi architetti neoclassici che hanno costruito San Pietroburgo addirittura Pietro il grande aveva deciso che San Pietroburgo doveva avere un modello urbano che era quello di Venezia esattamente come la mosca degli anni cinquanta quella dei grattacieli staliniani su scala immensa ma si costruisce sul modello urbano della Roma del piano Sistino quindi e poi anche nei momenti di più forte conflittualità penso appunto agli anni venti e trenta ad esempio il primo grande scandalo che coinvolge l'architettura italiana è legale che la grande polemica che c'è sul nuovo comune di Terragni del milione novecento ventisette e appunto sul fatto che quell'architettura sembra presa di peso in realtà ci sono differenze profondissime a una a prima vista sembra presa di peso da un edificio che a Mosca che appunto il club Suev di Golosov Bardi che è il fondatore di Quadrant la rivista principe del razionalismo settentrionale durante in pieno fascismo va a Mosca fa questo viaggio nell'unione sovietica idem Persico e poi diciamo dagli anni settanta in poi sono gli italiani che studiano l'architettura russa sostanziali neanche più russo i grandi studi prima del monumentale lavoro di Kammagomedov che è stato un grandissimo storico moscovito è fatto dall'italia dall'italiani e secondo me c'è il culto per la città il culto per le forme pure ed esatte no è la quella che le Corbusier chiamava la lezione di Roma che certe volte diventa invece la lezione di Mosca ma la capacità invece la visione ideologica dei due personaggi tornando alle Corbusier no la visione proprio ideologica tra i due cosa a quale architettura ha fatto nascere no cioè hanno due visioni in fondo eh che non sono poi per certi versi così lontani no ma infatti secondo me sono appunto prima dicevo di visioni totali e totalitarie estremamente simili no cioè l'idea che la che le architetture possano essere dei congegni che modificando le abitudini dell'uomo modificano anche il loro spirito è sicuramente un un'idea che condividono sia Leonidov che che le Corbusier come anche come anche l'idea che poi invece più tecnica no che ehm l'architettura può essere percepita quando è costruita con geometrie semplici ed elementari eh le Corbusier probabilmente più classico nelle sue composizioni eh mentre invece Leonidov fa sicuramente sua proprio delle modalità quasi pittoriche con cui mette insieme e bilancia eh le parti dei suoi edifici e questo c'è sicuramente c'è sicuramente in tutte e due e anche il concetto di una nuova architettura no? Sì sì sicuramente sicuramente architettura e che l'architettura possa modificare la società eh? Ecco infatti raccontaci un po' di com'era la visione di una città di Leonidov cosa doveva essere una città a differenza di quello che era in che era stato in passato? Allora ci potrebbe far riflettere anche ad oggi no? Dividiamo questo discorso in due parti perché da una parte c'è il lavoro concreto no? Che Leonidov compie su Mosca con una serie di concorsi e quindi lì risponde a come dire delle necessità reali e concrete della città che sono sostanzialmente quella di costruire un il nuovo skyline Mosca già negli anni venti e trenta è una città di cinque sei milioni di abitanti ma soprattutto è una città con una densità bassissima a parte alcuni edifici nel centro e a parte il cremlino è una città fatta da case in legno a massimo due piani quindi con un'estensione sconfinata una città sostanzialmente piatta a parte le le colline dei passeri nel quadrante sud ovest una città piatta in cui svettano le cupole delle chiese dei monasteri ortodossi le torri della della cinta muraria del cremlino ma non offre un sistema di riferimento sostanzialmente e questo il punto la definizione del profilo di Mosca come città moderna e contemporanea è il la questione su cui si misurano tutti gli architetti di quegli anni e anche in seguito è esattamente lo stesso discorso che porta poi alla costruzione degli otto grandi grattacieli staliniani che sono quelli che conosciamo tutti lo vediamo in qualsiasi immagine di Mosca cioè costruire un sistema di edifici che siano allo stesso tempo un riferimento territoriale dei grandi markers dello skyline e siano pure dei punti in cui si accumulano una serie di funzioni specializzate della vita metropolitana e assurgano anche a grande valore simbolico di Mosca come capitale del mondo socialista e questa è la prima parte del lavoro che lui compie con una serie di progetti li possiamo vedere se vai all'immagine quattro ecco questo è il suo progetto di laurea che sostanzialmente eh il progetto che lo farà conoscere giovanissimo tra venticinque anni quando fa questo progetto lo fa conoscere alla comunità internazionale ha la copertina di alcune riviste in Germania ne scrive addirittura piacentini sull'architettura italiana e così via è sostanzialmente eh l'istituto bibliometrico Lienin che è uno dei monumenti della nuova vuole essere uno dei monumenti della nuova mosca posta sulla sommità eh delle colline Lienin cosa c'era interessante se andiamo al all'immagine successiva come è fatto è fatto da sostanzialmente ecco una composizione suprematista due rettangoli eh e nel punto di intersezione una sfera allora cosa costruisce? Costruisce un sistema come dire su su degli assi una grande asse orizzontale che è la linea della metropolitana che congiunge l'aeroporto di Sceremeteievo con il centro di Mosca quindi questo questo questa linea ferrata che attraversa tutto l'edificio poi c'è questa grande torre che trasparente che contiene eh avrebbe dovuto contenere tutti i libri eh scritti dall'umanità quindi il grande deposito del sapere universale e poi in quella grande sfera geodetica che vediamo sulla destra era invece la biblioteca il luogo in cui questi testi venivano studiati trasportati da un congegno meccanico che li prelevava dalla torre e li portava nella sfera quindi costruire con forme del tutto nuove legate alla tecnica e abbiamo detto prima come la tecnica aveva un valore simbolico all'interno della della dell'unione sovietica costruire i grandi punti di riferimento territoriale e questo diciamo è parte del lavoro che compie leonido poi però c'è anche un'altra idea di città eh se andiamo all'immagine 54 ne parliamo allora qual è il principio il principio è che per gli architetti d'avanguardia come appunto Leonidov la città per come la conosciamo non è altro che il retaggio dei modi di produzione della stratificazione di classe prima del mondo feudale e poi del mondo borghese quindi essendo essendo venuti meno quei rapporti di produzione non ha più significato di esistere non ha più senso la città come la conosciamo al limite possono essere conservati alcuni edifici monumentali deve essere invasa dalla natura perché perché l'unico modo per cui l'esperimento sovietico può sopravvivere sono gli anni in cui è proprio l'esistenza dell'unione sovietica a essere messa in crisi sono i periodi in cui eh ci sono milioni di morti per le carestie dovute a un sistema agricolo assolutamente arretrato ebbene per questi architetti o per questi urbanisti per questi economisti l'unico modo è provare a riequilibrare il la contraddizione che da sempre esiste in Russia tra città e campagna e per Leonidov il modo per fare questo è sciogliere la città nella campagna cosa propone uno dei suoi progetti più famosi che è quello che vi faccio vedere che il piano per Mannitogorsk propone una città lineare che si estende in pratica da Mosca fino agli Urali fino alle porte della Siberia quindi una città lunga migliaia di chilometri che diventa in realtà una grande eh infrastruttura reticolare costruita su una maglia centuriale né più nemmeno come la città e come l'organizzazione della campagna romana dei romani su cui in questi quadrati si alternano di volta in volta residenze fabbriche eh aeroporti perché è ovvio che una città lunga migliaia di chilometri ha senso solo se ci si può muovere in aereo o indirigibile e questa città è resa poi possibile dal punto di vista diremo oggi della sostenibilità del suo autosostentamento solo se parallelamente viene industrializzata la campagna quindi la natura non è più diciamo una non ha più questa dimensione arcadica ma diventa una vera e propria infrastruttura produttiva resa possibile dalla città che insiste nelle sue vicinanze se possiamo scorrere con l'immagine vi faccio vedere alcuni ecco questa è la testa del del piano per Magnitogorsk se andiamo ancora avanti ecco da cosa la ripetizione diciamo delle par dei quadrati funzionali come è costruita è costruita sovrapponendo dei diagrammi che sono ad esempio il eh il diagramma delle distanze che l'autobus o la il tram elettrico eh può percorrere un determinato periodo di tempo oppure sono i ritmi circadiani del sonno dei lavoratori quindi di quanto sonno ehm ha bisogno l'operaio e quindi quanto tempo deve eh metterci per vestirsi e poi raggiungere il posto di lavoro e così via ecco questo è chiaramente un eh un progetto a carattere eminentemente e strettamente teorico però poi esattamente quanti anni sono passati novant'anni da quel progetto anzi forse anche di più un progetto del trenta siamo ventidue sì quasi più di novant'anni troviamo mi è capitato l'anno scorso verso dicembre di ricevere un'immagine di una città progettata nei paesi arabi mi pare negli emirati che riprende esattamente lo stesso principio cioè una città lunga centinaia di chilometri basata sul trasporto sostanzialmente sul trasporto individuale aereo quindi diciamo dopo cent'anni mi sembra che il ciclo di questa visione urbana si stia per compiere ecco sì queste sono poi le le partizioni delle varie centure con gli edifici che vinsistono le case famose case comuni quanto l'attività quanti anni dura l'attività dell'architetto? in realtà pochissimo abbiamo detto lui si laurea nel 27 a 25 anni ha un grande successo internazionale prodigioso successo internazionale come abbiamo visto praticamente in meno di due mesi passa dal da un lato all'altro della cattedra perché diventa una città docente al VUTEMAS è coinvolto in alcuni importantissimi concorsi di quegli anni la sua carriera però di diciamo la fase aurea della sua carriera termina nel 1930 ecco questo è un cambiamento cosa è successo esatto è successo che nel frattempo stalin ha vinto la sanguinosissima lotta per la successione di lenin come leader dell'unione sovietica con il programma di trasformare l'unione sovietica in una superpotenza industriale e quindi con la nascita del del periodo dei piani quinquennali sostanzialmente è quel mondo su cui in cui si era formato e in cui aveva iniziato operare leonido che viene smantellato allora il VUTEMAS come scuola viene chiusa non viene completamente rivisto il suo programma formativo gli studi di architettura privati degli architetti vengono chiusi gli architetti vengono riassegnati come progettisti agli uffici tecnici di progettazione dei grandi complessi in cui ministeriali in cui è organizzata la macchina burocratica sovietica chiaramente questo non avviene dall'oggi al domani c'è un periodo di transizione e durante questo periodo di transizione una parte del dell'architettura sovietica decide che leonidov è il nemico da battere proprio perché ha un seguito entusiasta tra i giovani studenti e quindi parte una violentissima campagna personale contro di lui che prende il nome di leonidoscina e cioè la lotta contro il cosiddetto leonidivismo tra l'altro orchestrata da degli studenti frange politicizzate di studenti ancora più giovane di Ivan Leonidov viene la sua è considerata un'architettura autoreferenziale piccolo borghese con diciamo l'armamentare ideologico che ben possiamo immaginare Ivan Leonidov perde la cattedra Lukutamas e prima che la situazione possa diventare pericolosa anche sul piano personale accetta non siamo ancora a periodo tragico delle purghe siamo al meno centotrenta il periodo delle della grande purghe trentasei trentasette quindi c'è ancora una certa possibilità di manovra l'eonidov accetta con la raccomandazione del suo vecchio maestro Alexander Viesnin un posto in un uno studio di progettazione ministeriale e se ne va per un certo periodo a far calmare diciamo le acque in Siberia a Igarca se ne va volontariamente dove farà alcuni progetti e diciamo prepara il suo ritorno che avverrà diciamo in grande stile solo nel millenovecentotrentaquattro quello che è il suo ultimo grande progetto sostanzialmente se andiamo lo vediamo se andiamo alla immagine sessanta sessantadue in poi che è un progetto per la sede del Narconjatsprom che il ministero dell'industria la sede del ministero dell'industria pesante e chi ha un po' di dimestichezza con quella fase politica del sistema sovietico sa che il ministero dell'industria pesante è un vero e proprio contropotere come dire un ganglio fondamentale dell'apparato staliniano infatti questo progetto si colloca in un luogo dallo straordinario fascino e potere evocativo esattamente di fronte al cremlino di fronte al mausoleo di Lenin sulla piazza rossa e com'è costruito è costruito un progetto straordinario eh c'è da dire è un gigantesco stilobate sagomato e che diventa quindi una tribuna da cui si possono si può assistere alle parate eh che vengono fatte il primo maggio il durante l'anniversario della rivoluzione e così via su cui si ergono con un si ergono tre torri di foggia diversa in con una strettissima eh relazione tra loro e quindi anche un ulteriore lavoro di monumentalizzazione di un pezzo architettonico e contemporaneamente di lavoro sullo sullo skyline di Mosca progetto che viene immediatamente scartato non è più nonostante eh vengono vengono abbandonati eh vengono abbandonato quel lavoro sulle forme pure dell'architettura vengono inglobate alcune figure alcuni temi invece dell'architettura diciamo spontanea russa non è più il momento nella Russia sovietica per quel genere di architettura e diciamo da allora in poi Leonidov realizzerà pochissimo proprio negli anni successivi c'è l'unico progetto realizzato che quella scalinata per un sanatorio in Crimea poi altro diciamo colpo definitivo in questo è una sorte molto simile anche se con esiti non in fausti rispetto alla storia di Giuseppe Terragni perché Leonidov torna va in guerra e è ruolato nel genio tra l'altro probabilmente per un straordinario caso del destino è sullo stesso settore di fronte dove sarà ferito Giuseppe Terragni che torna sconvolto in Italia e morirà di lì a poco e beh quella di Leonidov è una storia abbastanza simile perché torna dopo la guerra non è più l'uomo di prima ha avuto una ferita alla testa anche abbastanza grave perlomeno io ritengo che sia stata abbastanza grave perché nel 43 con la Wehrmacht alle porte essere congedato dall'armata rossa era una cosa estremamente complicata continuerà a lavorare un poco nel Vutemas che nel frattempo è diventato il Marchi quella scuola di cui parlavamo perché io diciamo ho avuti i primi contatti con l'architettura russa proprio in quella scuola quando ero studente all'inizio degli anni 90 però sostanzialmente farà poco nulla addirittura a un certo punto si licenzia dal Marchi farà poco nulla e chiude la sua carriera con una serie con un ciclo pittorico secondo me molto bello molto poetico e molto interessante lo possiamo vedere dalla pagina dalla foto 88 in poi che un'altra idea di città diciamo che la casa la città del sole riprende il tema campanelliano di questa città utopica in cui si possa coltivare finalmente dopo la tragedia della seconda guerra mondiale la fraternità e l'amicizia tra gli uomini in cui in forma come dire poetica e decontaminata tornano tutti i temi figurativi della sua architettura ecco li possiamo scorrere sono dei disegni tra i più belli poetici e significativi dell'architettura contemporanea no qui tornano le sfere tornano i prismi tornano le piramidi ed è un come dire come se fosse una specie di ricognizione ultima conclusiva di una vita dedicata allo studio delle forme dell'architettura senti tu insegni progettazione architettonica no allora qual è sicuramente gli hai fatto conoscere leone leone un prof no qual è il messaggio quale cosa trasmette cosa dà agli ai nuovi ai giovani che stanno iniziando a studiare l'architettura allora io penso sostanzialmente ecco questo è il tema fondamentale no perché poi soprattutto un docente secondo me deve distinguere le proprie passioni il proprio mondo formale da quello che poi è l'insegnamento perché uno si deve anche chiedere detto sì ma che utilità poi per uno studente che ha 21 22 anni nel 2022 quindi probabilmente lo separano 100 anni da leonido no sostanzialmente cento leonido nasce nel 1902 i miei studenti sono orati sono nati nel 2001 2002 esattamente a cento anni di istanza ecco ha senso parlarli di un architetto che ha non ha costruito niente è vissuto e ha operato in e questo diciamo è stato il il probabilmente la sua maledizione no in un mondo come l'unione sovietica è un sistema che è drammaticamente collassato e con il quale che ci sembra ancora più lontano dei in fondo 30 anni che ci separano dal dal suo collasso e dalla sua scomparsa beh io penso che sì ci siano chiaramente delle dei temi che non sono recuperabili dei temi tutti concentrati in quello specifico mondo secondo quelle quelle specifiche esigenze particolare ideologie è quello chiaramente non è recuperabile cioè invece d'altra parte alcuni temi casomai non formali come la straordinaria capacità che leonido va nel costruire macchine architettoniche fatte con quelle che sono delle forme universali eterne dell'architettura anche se realizzate con tecniche all'epoca addirittura fantascientifiche e dall'altra parte se secondo me poi anche la capacità spesso di prefigurare un futuro per l'uomo attraverso l'architettura al di là di quelle che sono poi le richieste specifiche che la società in un determinato momento fa all'architetto volevo farti vedere una cosa su quel tema che abbiamo saltato perché secondo me è un progetto che quasi nessuno conosce e secondo me è un progetto straordinario si può andare all'immagine 33 ecco questo sembra un quadro che potrebbe essere fatto da male da un qualsiasi suprematista un lavoro tutto sul sulle geometrie e sulle relazioni tra figure e distanze reciproche invece un progetto che fa leonido nel 1929 appena prima di cadere in disgrazia per dei club il club è un tema classico no dell'architettura sovietica e non a caso si chiama club quello che dicono club chiaramente perché si chiama club esattamente come gli edifici in cui si riuniva la nobiltà britannica invece nei club sovietici si doveva riunire la nuova aristocrazia del proletariato ed era una tipologia assolutamente nuova in cui convergevano convergeva la necessità di fare formazione continua ai lavoratori che spesso provenivano erano analfabeti provenivano dalle campagne non avevano mai visto un tornio ad esempio ma venivano fatte anche le grandi battaglie di civiltà l'alfabetizzazione le regole di igiene le grandi campagne di vaccinazione c'erano cinema si faceva teatro quindi una tipologia in cui si intersecavano funzioni anche molto diverse come declina leonidov questo tema innanzitutto lo porta fuori dalle città per lui i club sono delle grandi sale a cupola coperte a cupola che sostanzialmente possono accogliere tutte queste funzioni diverse e vengono disperse all'interno della sterminata campagna russa qual è la cosa più interessante è che chiaramente diventa una delle specie di grandi di nuclei di civilizzazione all'interno di questa campagna come abbiamo detto storicamente arretrati bene se vediamo questo disegno il diciamo la parte colorata è diciamo la planimetria di questa cupola e invece vediamo dei cerchi concentrici sempre più grandi sempre più grandi cosa sono questi cerchi questi cerchi sono le onde radio che questi club trasmettono questi club trasmettono che tengono insieme lungo tutto il territorio di questa nazione che occupa un cesto del globo terraqueo che si estende per ventitré per undici fusiorari dal mar baltico all'oceano pacifico costruisce questa rete di architetture che sono tenuti insieme non da un'infrastruttura materiale ma bensì da un immateriale che esattamente come internet diffonde immagini messaggi video e così via quindi è una sorta di smart city pensato 80 anni fa io credo che leonido sia un architetto che ai giovani fa benissimo per capire quanto la nostra mente deve essere libera di immaginare e anche di rendersi conto che siamo anche noi protagonisti della società qualsiasi lavoro poi si faccia mestiere lui ha una grande visione della società ha avuto è una grande libertà di essere di immaginare le cose e di pensare cose che non si erano mai viste credo che sia un grande architetto che esprima la libertà sì sicuramente rientra nel campo dei grandi visionari dell'architettura tra l'altro accompagnato da una capacità sensazionale del disegno c'è un dato biografico interessante allora vediamo se trovo volevo farvi vedere un'immagine se ce l'ho qui allora se prendiamo l'immagine 46 perché voglio fare una riflessione su questo allora c'è un dato questo è un altro progetto per un palazzo della cultura e come al solito compare un altro simbolo della modernizzazione sovietica che il dirigibile no che compare più o meno sempre nei disegni delle architetture costruttiviste allora questo questo disegno com'è fatto questo disegno sostanzialmente è fatto a china bianca su un cartoncino nero e poi quella parte della piramide è invece sbalzata su una sottilissima lamina in argento purtroppo l'immagine come capirete non rende quello che è uno dei disegni più belli del novecento sostanzialmente c'è un dato biografico che secondo me lo spiega Leonidov giovanissimo lui è figlio di un guardiacaccia e questo guardiacaccia probabilmente era il figlio illegittimo di Bakunin il grande anarchico per cui diciamo se questa cosa è vera la famiglia Leonidov lo sostiene ormai da anni allora vuol dire che Leonidov era il cugino illegittimo ma di sangue di Caccioppoli del grande matematico napoletano che era anche lui figlio di una Bakunin quindi diciamo e se avete la pazienza di guardarvi i volti del di questi due geni del novecento vedete che la fisiognomica e come dire il carattere ereditario parla abbastanza chiaramente Leonidov comunque giovanissimo aveva un grande talento per il disegno viene affidato per un paio d'anni a un pittore di icone quindi si capisce secondo me la straordinaria capacità che ha di lavorare sui disegni bidimensionali anche queste tecniche a sbalzo tratto sul cartoncino o sul legno più inserzioni di lamina metallica secondo me vengono direttamente dalla tecnica dei pittori di icone della zona di Tver da cui infatti eh Leonidov proveniva allora io direi che se qualcuno vuole fare qualche domanda potete aprire tranquillamente tutti il microfono e le e siete liberi è attivato francesco ciao buonasera buonasera eh una domanda di questa creatività di questa esperienza architettonica che cosa è rimasto a Mosca eh nel senso che io l'ho visitata Mosca e ricordo che ne ebbe un'impressione cioè al di là di un certo grigiume di 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 certi palazzi eccetera eccetera eh di una città che era estremamente stesa sul territorio eh di una città che per certi versi per larghi tratti sembrava non essere una città eh fosse che era molto compenetrata con eh con il mondo rurale con la campagna però ecco eh siccome questo discorso è estremamente devo dire veramente affascinante io non sono un architetto ma ho sentito questo discorso per essere architetto ovviamente no? Eh mi domando se è rimasto traccia a Mosca perché ovvio che mi è rimasto impresso con quell'aspetto là come sono rimasti impressi i grossi grattacieli in cui ho ottenuto per nottato insomma. All'hotel Ucraina. Eh guardi no ma 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 insomma per motivi istituzionali stavo proprio al top ho dormito al metropol eh sì quella quella degli alberghi di Mosca è un'altra storia affascinante bellissima certo. Sì se poi posso posso così eh qualcosa di aulico ecco ricordo che andai a Mosca che c'erano meno trentasette gradi centigradi e ricordo abbiati tutto insomma c'era una manifestazione al maneggio del femminino eh in occasione un accordo tra l'Arenia Aeronautica e l'Industria Aeronautica russa e e credo da trentasette gradi centigradi di entrare dentro il metropol eh c'era un reingresso di due metri di lato con una grossa ventola che sparava aria calda eh in cui pur impiegandosi non so dieci secondi eh di attraversamento ebbe impressione che sarei morto arrostito. Dopodiché uscito di nuovo per entrare al maneggio del femminino girai l'angolo e venne investito da un vento freddo di quelli che allora comunque cioè grossi spazi e e e questi enormi trattacieli eh sono due cose che mi sono rimasto essenzialmente impresso facciamo le chiese ortodosse quelle chiesette ortodosse con se me passero fatte di acquarello insomma no? Eh ma questa esperienza questa elaborazione ha lasciato traccia allora in realtà le architetture di quel periodo realizzate erano già poche sostanzialmente molte sono state demolite purtroppo con la fine dell'Unione Sovietica poi paradossalmente il l'accusa che diciamo in epoca post sovietica che è stata fatta a queste architetture esattamente la stessa e speculare quella fatta durante il periodo staliniano quindi le architetture non russe cosmopolite che guardano all'occidente piccolo borghesi diciamo tutto l'armamentario ideologico che che conosciamo ultimamente la situazione è cambiata anche grazie al lavoro eccezionale fatto ad esempio da un bellissimo sito che si chiama The Constructivist Project che è tenuta da questa cara amica che si chiama Natalia Melikova che è un attivista sostanzialmente quindi ha lavorato tantissimo per non far disperdere la documentazione e salvaguardare questi edifici molti di questi edifici e questo diciamo è stato fatto in quasi in concomitanza col mondiale che fu fatto in Russia quindi un tre quattro anni fa mi pare anzi quattro anni fa esattamente perché chi gestiva l'immagine del mondiale ebbe la lungimiranza e l'idea di capire che invece l'avanguardia sovietica era uno dei patrimoni con il quale la Russia è conosciuta nel mondo e recuperò anche nella segnaletica nel in alcuni loghi quel sistema figurativo. C'è un edificio importantissimo che si chiama eh il Narcon Film che era la casa del eh degli impiegati del Ministero delle Finanze che è un edificio che è fatto da Ginzburg che sta su tutte le storie dell'architettura del mondo che è stato allo stato di rudere perlomeno per venticinque anni invece proprio recentemente eh è stato ristrutturato è stato ristrutturato dall'altro tra dal nipote dell'architetto che l'aveva progettato ed è tornato diciamo nello splendor quasi allo splendore originale per quanto riguarda invece la città che ho capito che lei l'ha accolto l'ha accolto lo spirito di quella città eh molto bene quello che è rimasto è proprio questa straordinaria capacità di tenere insieme eh parti costruite e campagne. Ora la mosca attuale non è più la mosca degli anni venti e trenta è diventata una metropoli che ha un'area urbana di circa cioè una popolazione urbana di circa venti milioni di abitanti da un cavo all'alto della della superficie metropolitana sono cinquanta chilometri quindi sono dimensioni asiatiche non non europee chiaramente però ha mantenuto quello che sta quelle che sono state le linee guida dei piani degli anni venti e trenta e cioè di evitare la conurbazione a macchia d'olio e spaccare questa città che sostanzialmente è radiocentrica con dei grandi cunei verdi quindi che evitano e creano diciamo un sistema a raggi eh che eh porta la campagna e la natura già all'interno della città. Io ho degli studenti io faccio un corso monografico su mosca ormai da due anni quindi i miei studenti fanno dei progetti su mosca perché lo faccio insieme a delle università russe quindi diciamo anche in epoca covid alcuni miei studenti coraggiosi quest'estate sono andati a fare un mese di di lavoro a mosca e mi raccontavano che questa università che è l'MGSU che sta al centro di Mosca praticamente al centro di Mosca nella seconda fascia eh del centro quindi non dove c'è il cremlino eccetera un po' più là questa grande università ha le residenze degli studenti che sono a venti minuti a piedi dalle aule e loro hanno visto in questo grande parco dell'università i daini e addirittura si parla si parlava di un orso che si aggirava all'interno del complesso quindi ha mantenuto questa dimensione naturale appunto come lei diceva rurale Luca una cosa non abbiamo fatto vedere però lui il nostro protagonista che lo vedete però qui alla mia destra eccolo qua quindi il nostro protagonista ecco è qui proprio qua allora io direi che a questo punto abbiamo superato già da dieci minuti la nostra ora prevista e voglio dare un po' il prossimo appuntamento sulle sull'architettura che sarà il 4 febbraio sempre alle ore 18 sarà con noi Alessandro Mauro docente della facoltà di Catania di architettura e ci parlerà della formazione dell'architetto Alessandro Mauro Alessandro Mauro